Ferrero Renato, 91 anni e lavoravo alla Brombo Veri come operario specializzato e vivevo lì nel quartiere di Villapiana. Quindi 91 anni io ho passato la mia gioventù nel tempo di guerra, perché dal 40 del 29 e poi andare avanti, 45 e tutte le sofferenze via. Io abitavo all'ultimo piano in via Vanini che è l'ultimo piano, tutte le notti suonavano l'alarme due tre volte, figuratevi come poteva andare a scuola preparato, facevo le professionali. A quei tempi là c'era l'ITIS in Piazza Brenner. L'ITIS e le professionali. Le professionali a quel tempo erano tre anni e due anni di tecnica, cinque anni comunque era una preparazione per poi andare a lavorare in fabbrica. E di notte andavamo a rifugiarsi come i topi nella galleria del treno lì via Pisa e poi hanno fatto la galleria via San Lorenzo, non so se… e poi andavamo su a Santa Teresa, hanno fatto quella che va a sboccare dietro via… dove c'è… dove c'è l'autostrada, la superstrada, l'Aurelia Bis, andava a sboccare lì. E andavamo a rifugiarsi di giorno, di notte, bombardamenti, via di cena, via… vita da… il mangiare tesserato, pane tesserato, carne tesserata, tutto… fame da lupi perché a tredici anni, quattordici… va bene, lì è il periodo di guerra che abbiamo passato. avvenendo quando poi sono stato a lavorare, io sono stato a lavorare in un'officinetta che era il mio insegnante lì alle scuole, diciamo le industriali erano, le chiamavano a quel tempo, che adesso è il liceo, era da Lari, ma aveva preso… aveva un'officinetta dove c'era suo figlio lì, aveva… mi ero andato a lavorare lì dove… e tra l'altro era… era il fratello della signora Dallari che è morta in via Giacchiero, da sotto… aveva una bomba scoppiata nel portone… e via via… e fatto… detto quello sono andato poi… ho fatto il militare, sono andato a lavorare nella Bromoveri. nella Bromoveri si sono stati parecchi anni e io quando facevo i tre turni, erano sui tre turni di lavoro, uscivo nel periodo delle bombe, uscivo alle sei del mattino e venivo a fare quelle due o tre ore, ne ero subito così, poi me ne andavo a riposare e via dicendo, durante la giornata. mi ricordo che assieme a noi c'erano anche dei poliziotti, facevamo il giro attorno alle scuole Rosa e Maltoni che erano quelle che sono lì, le elementari, a quel tempo là erano solo elementari, poi attorno all'asilo, all'asilo sopra che è dall'ingresso e da via Verdi e mi sono trovato lì con anche dei poliziotti assieme, uno in coppia, eravamo in coppia, vedi… gli operai della Magrini addirittura avevano saldato i tombini, i coperchi dei tombini erano stati saldati in modo da non potessero togliere via… e quello… c'era un bravo pasticciere a quei tempi là, che era Franco, che la pasticceria c'è sempre, e che ci aveva portato una domenica mattina, mi sembra, forse io avevo finito il turno di lavoro, o un sabato mattino o una domenica mattina, adesso non so dire bene, avevo portato un mucchio di chantilly, ha detto ragazzi, divideteli un po' fra di voi che siete sempre impegnati, e quello è un ricordo. Anche ricordo cosa voleva, nella Bromboveri, io ero nella Bromboveri, un giorno ero nel consiglio di fabbrica a quei tempi lì, è arrivata una telefonata anonima dove dicevano che era stata messa una bomba in un reparto, però non specificavano il reparto. E allora noi siamo partiti e assieme c'erano diversi poliziotti, facevamo strada ai poliziotti, per andare a controllare i reparti di produzione, a vedere nei posti dei rifiuti e via dicendo, a vedere come è andata bene, che non c'era niente. Il personale era tutto radunato sul piazzale. All'epoca eravamo piuttosto, possiamo dire, piuttosto verso i 800, verso il migliaio, 800, perché quando sono andato io in prepensionamento nel 55, erano 750, poi sono diventati 500, attualmente sono sui 500, lo voglio muovere. Ecco, i miei ricordi sono quelli. Io sono sempre stato impegnato, prima di tutto, nella federazione giovanile comunista che è sorta dopo la guerra. C'era Berling, ora a quei tempi là il segretario, che è venuto, e poi ho seguito piuttosto la parte politica del Partito Comunista in Vila Piana. Non era in via Giacchiero, era su a Monturbano che era scoppiata la bomba, che noi eravamo allo standa, era a Monturbano. Poi un'altra era scoppiata dalla provincia, al palazzo della provincia, e quella di via Giacchiero è dove è morta poi la signora. La standa eravamo lì dentro, si siamo spaventati, più di quello non potevamo fare, e siamo usciti, mi sembra, abbastanza con una certa calma. Insomma, venivamo già da tempi difficili, quindi sapevamo mantenere abbastanza la calma. Si aveva l'impressione che ci fosse una certa protezione nei confronti di quello, per il sentito dire, per quello che si poteva vedere, perché le indagini, per conto mio, non è che fossero proprio al massimo. Io direi che non dovrebbe essere dimenticata. La nostra storia dovrebbe essere fondamentale. Dagli inizi, da quando siamo passati sotto il ventennio fascista, a venire avanti con la democrazia e tutto, dovrebbe sempre la memoria portarla avanti. Tanti hanno preso il benessere per una cosa che va avanti, ma non è un benessere scolpito sulla pietra. Le cose possono cambiare da un momento all'altro. Vediamo adesso il virus che è uscito fuori. Cosa facciamo? Abbiamo allentato un po' i cordoni. Nell'estate adesso arriva l'onda e poi ci vuole anche un po' di sopportazione.